Ciao a tutti, prima di cominciare come al solito volevo dire che per essere sponsorizzati dovete iscrivervi, lasciare like, commentare con l'hashtag sponsorizzami ed essere attivi al canale. E ora, buona visione! Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Anna e oggi siamo sul video delle sponsorizzazioni. Allora, per primo sponsorizzerò Nello18, che ha 69 iscritti e fa video su Final Kick, Clash Royale, Sumo Rory Dreams, Minecraft, eccetera. Poi, Tiring Cube, Andrea Cube, che ha 71 iscritti e lui fa specialmente le intro e le outro per i canali. Quindi, se vi serve una intro e una outro, andate sul canale. Poi fa live, eccetera. Soprattutto intro... Che cos'è sta roba? Fa soprattutto intro e outro. E poi... Darions Pro, che ha 257 iscritti e fa video su Clash Royale, speciale, live, vlog, Minecraft, sponsorizzazioni, eccetera. Poi, The Real Killer, che ha con me 48 iscritti e fa video su Clash of Clans, Crash Royale, Tiger Ball, eccetera. Poi, Nico Game, che ha 37 iscritti con me e fa video su Fatuna Live, poi Minecraft, eccetera. Poi, Sunboy, che ha 118 iscritti e fa video su Live, Top, eccetera. Poi, The Minecraft Player, che ha 22 iscritti o ha anche chiamato Testificate02, che ha appena cominciato a fare video su YouTube e... Fa video su Minecraft e poi ha fatto un video presentazione del canale, e sì. Poi... Poi... Tides Play Gaming, 65 iscritti e fa video su Clash Royale, poi Harrow.io, eccetera. Poi... Poi... Poi Shark, TNT, che ha 101 iscritti con me e ha fatto video su Clash Royale e Clash of Clans. Poi... Malby, 201, Aldrovandi, che ha 50 iscritti con me e fa video... Cosa ho fatto? Non ho sbagliato, scusate. Fa video... Fa live, poi... Fa molte live, fa soprattutto molte live e poi fa anche Rainbow, GTA V, eccetera. Poi... Poi The Nerd Brothers, che ha 206 iscritti e fa video su Alice Is There, poi... Come si chiama questo gioco? Voland, Voland, poi Fonelix Wright, eccetera. Poi Gamer Master, che ha 121 iscritti e fa video sponsorizzazioni, iMai, Cash Royale, eccetera. L'ho sponsorizzato prima. Mark Queen, 001 Ita, che ha 226 iscritti e fa video su Minecraft live. Poi Rainbow Seeds Siege, eccetera. Poi, poi, poi... Zass, 88, Spawn, 04, che con me ha 7 iscritti e ha fatto due video. Cioè, Cash Royale e 10 gennaio del 2017. Poi, vediamo se... Ecco il vostro caro Gabriel Royale, che ha 8 iscritti e ha fatto due video di Minecraft. Poi, e basta. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao! Ciao!